Cominciamo dallo stadio Uganeo di Padova, si giocò proprio a Padova 1 ottobre 2000, il gran palo colpito da Vincenzino Palumbo, finì 1-1 quella partita, stiamo vedendo le immagini con il Cittadella che sblocca il punteggio, il Cittadella di Glerian che attuava il 3-3-4, molto offensivo, due colpi di testa ad aprire il campo per Sturba che poi giocherà anche nel Teramo, successivamente 1-0 freddato, Bordoni assolutamente incolpevole, poi Fabio Artico, la pennellata per Giampaolo, il controllo, il grandestro all'incrocio dei pali 1-1, successivamente il Pescara sfiorerà anche il gol del 2-1 sempre con Fabio Artico con la palla che sfiora il palo sinistro della Porta Veneta, siamo qui con le immagini al 29 maggio 2011, il calcio di rigore per il Cittadella, ha atterrato Piovaccari, espulso il giovanissimo Bartoletti, viene sostituito Sanzovini, entra Cattenari che viene dunque freddato dagli 11 metri proprio da Federico Piovaccari, classe 1984, guardate il pareggio momentaneo di Stefano Giacomelli, un super gol da parte dell'attaccante che milita in questo momento, in questa stagione nella Vicenza, classe 1990, davvero un grandissimo gol, una magia, quella di Giacomelli, poi il 2-1 con uno slalom di Gabbiadini che gioca naturalmente nella Sampdoria, palla dentro per lo stesso Piovaccari che elude l'intervento di Cattenari e deposita nella Porta Sguarnita, 2-1 per il Cittadella di Foscarini, l'allenatore del Pescara era Eusebio Di Francesco, era l'ultima giornata della stagione 2010-2011, poi scappa via ancora Manolo Gabbiadini che era giovanissimo, palla in mezzo, tutto solo di Roberto Fatris, 3-1 per il Cittadella e poi il 3-2 accorcia le distanze, Marco Verratti, primo gol in Serie B per l'allora diciottenne in quel momento, Marco Verratti assistito magistralmente nella circostanza da Emanuele Cascione. Andiamo con le immagini al 10 marzo 2012, in vantaggio il Cittadella con Busellato, servito nella circostanza dalla francese Maa, l'allenatore del Pescara Zdenek Zeman, 10 marzo 2012 il Pescara vincerà in rimonta, guardate che gol, Marco Sansomini al secolo, il sindaco giravolta e gran sinistro, praticamente all'incrocio dei pali, davvero un grandissimo gol, 16 in quella stagione da esterno d'attacco, lui che era un centravanti e poi nella ripresa la perla di Lorenzo Insigne, il lancio, guardate Insigne, il destro a giro, formidabile, meraviglioso, dunque il Pescara di Zeman si impose per 2-1. Andiamo con le immagini al 9 novembre 2013, l'ultima vittoria del Pescara a Cittadella, il lancio dello spazio, lo scatto di Antonino Ragusa che brucia tutti, il grandestro sotto la traversa, Cittadella 0, Pescara 1, era il Pescara di Pasquale Marino. 20 settembre 2014, Cittadella batte Pescara 3-2, il vantaggio di Gerardi che gela Vincenzo Fiorillo, uno dei due centrali era Emanuele Pesoli, stretto collaboratore di Beppi Piloni, il pareggio di Politano, il sinistro a giro a scavalcare la barriera, Pescara che si porterà in vantaggio con Federico Melchiorri, l'uscita, diciamo così, rivedibile del portiere Valentini, ne approfitta Federico Melchiorri che sigla così il primo gol con la maglia del Pescara, inquadrato Politano, ma in realtà il gol era di Melchiorri, 2-1 per il Pescara, ma c'è la rimonta del Cittadella nel secondo tempo con Coralli che firmerà una doppietta. Qui anticipa Pesoli e qui fa tutto bene, elude l'intervento di Zampano e poi piazza il pallone alla sinistra di Fiorillo.